Leonardo e Steven Leonardo e Steven, io vengo a Umbriaggezza come tantissimi, milioni di persone è una manifestazione famosissima nel mondo e chiaramente quando ci sono ragazzi come voi che suonano che in mezzo alla gente a me fa sempre piacere intanto dimmi un po', parlami di idee, che cosa ci fai qui a Umbriaggezza? Io sono di Perugia, sono in giro diverse città anche qua in Italia e fuori per il festival solitamente torno e lavoriamo poi strada appunto e quest'anno mi sono messo insieme a Leo e quindi sì, facciamo un duo insomma, chitarra contrabbasso ogni tanto c'è anche un altro amico con la Washboard ma oggi non c'è e niente, abbiamo fatto tutti i giorni il festival Grande passione per la musica, grande passione per la musica ovviamente è tutto, è tutto, è tutto, non c'ho più la voce, non c'ho più le mani è finito, dieci giorni, come si dice, di fuoco di fuoco Quante esibizioni hai fatto durante la giornata? Almeno tre, tre, due, tre Come è andata questa edizione 2018? Bene, l'energia positiva, ci sono stati bei concerti, bello Un buon equilibrio Possiamo dire allora che questa, per chi non è mai venuto, è una cosa che assolutamente non possono perdersela, no? Ah no, 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 assolutamente Sì, sì Quanti anni hai? Io trenta E tu? Ventinove Benissimo, ragazzi, allora noi vi salutiamo Continuate così, ci è piaciuta la grinta Grazie Noi abbiamo preso il vostro cd, ce lo sentiamo in macchina Grazie E promuoveremo la vostra musica Grazie Perché siete molto molto simpatici e bravi Ciao Grazie mille Ciao Stephen Leonardo E ciao Leo Umbria Stinky Feet Stinky Feet Stinky Feet, ciao 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 Che sono questi che sentiamo? Funkoff adesso ci sono Andiamo a sentire, sono famosi Ci vediamo dopo